Questa è la postazione di Donna Rosa Certo, la posta di Donna Rosa Ociuccia D'Aiabas Che apurarisce una cosa Grande rubrica Ragazzi, una grande rubrica e io sto avendo tanto successo Mi fa molto piacere E questa è una cosa che mi fa tanto piacere Grazie a Telecaribas Prego signora, arriviamo Che volevo mandare un messaggio A tutti i miei fans che mi scrivono Lo so Lo sai? Che c'è uno spettacolo vostro Bravo! Dove, dove, dove? Il recital di Rosa Miranda Dove, dove, dove? Le passioni di Rosa Al piatto Gersonino di Afragola Mi raccomando, il 20 aprile Accorrete in massa Lì, appunto, un messaggio a tutti i miei fans E dedicare un qualcosa di carino Come, ad esempio Caravan Petrol Che c'è zicco caravan? E fa tutto sta randello E vai, via maestro!